Il Consiglio Comunale di Arezzo ha approvato una variazione al bilancio che permetterà di avere 32 milioni di euro di investimenti, un lavoro frutto dell'avanzo di amministrazione avvenuto nel 2016 di 6 milioni di euro e grazie anche alla contrazione di nuovi mutui per 3 milioni di euro, modifiche che permetteranno di potenziare il piano triannale delle opere pubbliche che ha subito l'ennesima variazione nell'ultimo Consiglio Comunale. In particolare l'amministrazione intende spendere 1 milione e 400 mila euro per il sistema scolastico con interventi in 5 diversi istituti. Oltre a quello da 65 mila euro nella scuola di Matregnano che per il prossimo anno ha scongiurato la chiusura, saranno interessate da lavori di riqualificazione di vario tipo anche le scuole di Tregozzano, di Sitorni, Indicatore e la palestra della scuola Cesalpino. Cambia nuovamente l'impostazione dell'incrocio di via Fiorentina con la circonvallazione. Nonostante l'annosa richiesta, soprattutto da parte dei commercianti di permettere la svolta a sinistra, non sarà possibile realizzare una rotatoria per i costi eccessivi. Al suo posto è previsto un sottopasso con un importo di un milione di euro. Per una rotatoria che se ne va ce n'è un'altra che arriva, è quella di Ponte Achiani che avrà un costo di un milione e mezzo. Altro progetto finora non previsto riguarda la zona dell'ex mercato ortofrutticolo, dove è prevista la realizzazione di un orto creativo dove valorizzare produzioni locali e biologiche, che beneficerà di un finanziamento di quasi 3 milioni e mezzo di euro.